Lo staff penso che sia una componente fondamentale, quando noi parliamo di voler creare una squadra e lo diciamo ai ragazzi, prima dobbiamo dimostrarlo noi come staff e con l'abbraccio penso che sia molto significativo da questo punto di vista, poi Giovanni per me è una risorsa molto molto importante perché conosce l'ambiente, conosce i ragazzi che già c'erano nelle passate stagioni, quindi per me è una risorsa importantissima, poi abbiamo parlato molto questa settimana e penso che sia stata una cosa liberatoria un po' per entrambi, secondo me l'abbiamo dimostrato domenica di essere squadra, ma la squadra è un'entità che nasce e cresce giorno per giorno, se inizialmente si è tanti singoli, ognuno porta la propria esperienza, si può anche essere già un gruppo, nel senso che si può anche star bene fuori dal campo, però si diventa squadra quando per tutti o tutti insieme si condivide un unico obiettivo da raggiungere. Nella settimana scorsa avevo visto qualche piccolo segnale e la squadra nasce da questi piccoli segnali che non sono necessariamente situazioni di campo, possono anche essere situazioni extra campo o di spogliatoio. Sì sì, ma Allen, intanto premetto che penso che sia uno di quei giocatori che ho voluto più fortemente qui perché è un giocatore che ha delle qualità importanti, a volte mi incavolo un po' con lui perché sono convinto che non ha ancora espresso tutto quello che può esprimere, perché ha delle potenzialità enormi ancora. Quest'anno sta giocando tanto rispetto magari agli altri anni dove veniva utilizzato più saltuariamente, ma io con i ragazzi fuori dal campo penso che ci sia un ottimo rapporto e poi dopo quando siamo in campo però lo sanno che io guardo poco in faccia a chi mi trova davanti, per me conta solo la squadra, quindi se vedo qualcosa che va migliorata lo dico, a volte con dei toni più pacati, a volte nel trance della partita magari usi dei termini un pochettino più aggressivi, però con Allen penso che ci sia grande stima innanzitutto e poi c'è un ottimo rapporto. L'Avellino dobbiamo pensare che è prima in classifica e quindi è una squadra che ha dei valori importanti perché non si è prima in classifica per caso, quindi intanto bisogna dire che stanno facendo molto bene, per il resto noi dobbiamo giocarci la nostra gara ricordandoci la partita di Coppa Italia, tenendocela bene a mente in tutti i suoi momenti, sia tecnico-tattici che di altro genere. Io penso che la squadra sia cresciuta, sia cresciuta perché comunque ha preso consapevolezza anche dei propri errori, però penso che sia una squadra completamente diversa sotto praticamente tutti i punti di vista, come probabilmente anche loro sono diversi rispetto a quelli che erano ad agosto. Io diffido dalle persone che dicono di non essere scaramanti, che io penso di esserlo quindi il pronostico, neanche sotto tortura lo faccio. Allora il primo, rimessa laterale, gran movimento di Schaudone, cross in area, caputo sul primo palo di testa, gol. Il secondo palla sull'esterno a destra, cross di Stevanovic, De Luca che è alto 1,12 m, sbuca sul secondo palo e fa gol. Il terzo invece ha una palla incrociata, De Luca prende palla a sinistra, rientra, 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 tiro sul primo palo, gol. Però abbiamo preso anche due gol, mi ricordo anche di quelli. Bari, io penso che nei primi due mesi ha un po' prevalso il mio carattere nordico, mettiamola giù così, di essere un po' riservato, un po' così, però adesso bene, direi molto bene, la squadra penso che trae grande energia positiva dai tifosi, ma anche quando c'è una manifestazione di senso, comunque anche da quella si può prendere uno spunto importante e penso che i ragazzi dai fischi della gara col Modena abbiano tratto comunque dell'energia per poi giocare la partita di domenica, poi dopo quando fai un'ottima partita. Intanto ringrazio anche ancora una volta tutti i tifosi che sono venuti fino a Catania e sono sobraccati un viaggio sicuramente non semplice, avevo promesso che se avessimo vinto per la prima volta sarei andato sotto la curva e fortunatamente sono riuscito a farlo visto che abbiamo vinto, però poi rientro qui, è stata una cosa incredibile, non credo che ci sia un'altra piazza in Italia che possa fare una cosa come fanno i tifosi del Bari, non credo che esista proprio.